Ripercussioni politiche e giudiziare. A distanza di giorni il disastroso ruogo di rifiuti speciali a Battipaglia continua a tenere banco nel Salernitano. Il caso è finito anche in Parlamento con un'interrogazione a firma di Enzo Fasano, Marzia Ferraioli e Gigi Cascello. Gli esponenti di Forza Italia chiedono una soluzione definitiva per l'emergenza ambientale nella Piana del Sele e chiedono al governo di mettere in campo tutte le iniziative necessarie per fronteggiare il problema rifiuti. L'altro fronte è quello giudiziario. In una nota il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese ha fatto sapere che il comune ha presentato un esposto in procura per far luce sull'incendio rifiuti e chiesto l'intervento urgente del ministro per l'ambiente Sergio Costa e della commissione parlamentare antimafia. I 5 Stelle intanto continuano ad accusare la regione di gestione fallimentare e a proposito di Battipaglia, polo dei rifiuti della Campania, mettono nel mirino de Luca. Ma è tutta la provincia di Salerno ad essere in allarme per la questione rifiuti. Il ballo di Diano è rivolta per l'arrivo di 2000 tonnellate presso l'aria industriale di Polla, così come previsto dal piano della provincia. Perché mi pare oramai chiaro a tutti che il ballo di Diano da serbatoio di voti per interessi utili di solo voti, qualcuno sta diventando un serbatoio inutile per i rifiuti degli altri. E allora bisogna scegliere, credo dovremmo fare un patto di sindaci in difesa del territorio che abbiano come primo posto l'appartenenza istituzionale, la passione per la propria gente e la difesa strenua della propria identità. Accuse dalle quali il presidente strianese si è difeso ribadendo che si tratta di un piano che riguarda rifiuti già biostabilizzati e senza rischio contaminazione che saranno trasferiti dallo stirre di Battipaglia per liberare spazio e provare così a scongiurare, almeno in provincia di Salerno, l'emergenza rifiuti.